un saluto a tutte le mie classi e naturalmente in particolare alle classi seconde come vedete dalla copertina della nostra presentazione siamo a parlare di raffaello raffaello sanzio uno dei tre importantissimi artisti che caratterizzano il rinascimento maturo raffaello appunto leonardo e michelangelo e oggi andiamo ad affrontare quello che è stato definito come il pittore perfetto naturalmente io qui vi saluto dall'immagine video perché condessare in mezz'ora raffaello non è semplice parto subito vi saluto e andiamo ad affrontare la storia di questo importantissimo artista il primo passo come sempre lo facciamo con un piccolo schema che qui non mi soddisfa completamente ma comunque serve a dare un'idea e alla destra vedete innanzitutto un opera di raffaello la madonna sistina fate attenzione per quanto possibile perché è un po piccolo al volto della madonna che tiene tra le sue braccia il bambino perché un volto che rincontreremo nel corso di questa presentazione e vi faccio anche notare i famosissimi putti che raffaello dipinge qui sul bordo del quadro mostrandoci una una capacità compositiva notevole perché fare appoggiare sul bordo del quadro di un angioletti naturalmente rende particolarmente efficace tutta l'immagine e la inquadra anche con una sua profondità ecco un già un punto importante di raffaello lo affrontiamo ed è quello del suo dipingere continuamente la figura della vergine della madonna dipinge molte volte ed è sarà uno dei temi più importanti della sua pittura ma diamo uno sguardo rapido alla mappa dove vediamo alcune opere importanti tra cui la madonna del cardellino e la scuola di atene fondamentale parte delle stanze vaticane tutte affrescate da raffaello che affronteremo anche oggi qui lo schema ci presenta raffaello anche come un architetto e in minima parte in minima parte si occupa anche di questo ma lo considererei ha più a ragion veduto un pittore esclusivamente un pittore mentre sia per leonardo per michelangelo ci ritroviamo invece delle figure che si sono occupate veramente di cose diverse dall'arte e da forme diverse di arte raffaello principalmente è e resta a tutti gli effetti un pittore un rapido accenno alla vita di raffaello lo dobbiamo fare perché è importante raffaello rimane orfano di madre che ancora un bambino aveva otto anni e il padre che era un pittore si accorge che raffaello delle doti naturali per quanto riguarda proprio disegno la pittura e quindi lo avvia agli studi agli studi artistici anzitutto e possiamo dire che il padre è il suo primo insegnante a 11 anni raffaello perde anche il padre ecco quindi resta orfano veramente giovanissimo e viene preso sotto la protettrice di uno dei più importanti artisti dell'epoca cioè del rinascimento che era perugino ecco che raffaello è a bottega da perugino e qui si forma si forma come artista e in poco tempo diventa maestro d'arte addirittura alla giovanissima età di 17 anni raffaello era già maestro d'arte ed era conosciuto e celebrato per le sue capacità adesso dobbiamo un attimo capire quali sono le capacità di raffaello andando a fare un confronto un confronto diretto proprio con il suo maestro perugino l'opera che ci permette di far questo lo sposadizio della vergine la vedete a sinistra nella versione di perugino e a destra nella versione di raffaello è tutto molto chiaro in un certo senso comunque proviamo come necessario a vedere perché raffaello sul classe al maestro beh innanzitutto nella completezza della composizione raffaello contiene tutta l'architettura all'interno della sua della sua opera mentre vedete che a sinistra perugino taglia la cupola della costruzione che sceglie come scenografia dello sposalizio vi faccio notare le figure umane come sono decisamente più leganti a destra imposture decisamente più naturali mentre per quanto riguarda perugino guardate la rigidità della composizione con la figura il centro del celebrante del celebranti colui che celebra il matrimonio dritta e allineata col centro dell'opera invece vedete che raffaello sceglie una posizione decisamente più naturale lo fa anche per la vergine e per giuseppe anche qui notate come piccola la testa della madonna e come invece nell'opera di perugino e come invece è decisamente più proporzionata ed elegante nel nel dipinto di raffaello il l'ultimo punto per cui l'opera di raffaello si mostra come più matura più riuscita di quella del perugino è la prospettiva ecco notate come la pavimentazione e la prospettiva a fuoco centrale viene resa con assai maggiore efficacia da raffaello rispetto al suo maestro perugino diciamo che il quadro di raffaello come dite voi ragazzi ha decisamente un effetto 3d maggiore rispetto a quello di perugino ecco tutti elementi che in poco tempo lanciano il nostro artista ai vertici ai vertici diciamo così del panorama artistico dell'epoca raffaello è molto attento e cerca sempre la perfezione non sarà mai un innovatore come michelangelo o uno sperimentatore e innovatore come leonardo diciamo che raffaello sarà un ottimo pittore che studierà anche l'opera dei suoi colleghi contemporanei portandola a dei livelli di perfezione mai visti prima livelli di perfezione che testimoniano soprattutto lo sforzo di raffaello di raggiungere una bellezza idealizzata la vedete qui nell'eleganza delle figure di giuseppe e maria e anche dei personaggi che li accompagnano nella celebrazione che sembrano dubbiamente dei personaggi di corte più che il povero falegname e la giovane maria ecco sembrano personaggi di corte non a caso molti stilisti come vi ho detto anche in classe come giorgio armani si sono ispirati a l'opera di raffaello nel disegnare ecco i loro capi ecco vediamo qui che grazie a proprio adonato bramante ecco il proprio sta perché l'edificio che vedete sullo sfondo circolare che realizza nel suo dipinto raffaello vi dico che è quello sulla destra quello di raffaello è un edificio ispirato alle architetture di bramante sarà proprio bramante a presentare a presentare raffaello a al papa giulio ii e questo è un passaggio importante nella vita di raffaello che diventa tutti gli effetti un artista di punta in vaticano assolutamente diciamo così è insostituibile ecco rivediamo ancora qui l'opera del del nostro artista e la approfondiamo con i punti che caratterizzano diciamo così il suo lavoro ecco sicuramente abbiamo il classicismo c'è l'ispirazione all'arte classica soprattutto negli esempi dell'arte romana che abbondavano a roma abbondano tuttora ma a maggior ragione anche centinaia di anni fa durante il rinascimento quindi a occasione raffaello di studiare le rovine romane di appassionarsi all'arte classica un altro punto fondamentale è sicuramente che vediamo qui la prospettiva geometrica di cui vi ho già parlato e che raffaello preferisce sicuramente a quella prospettiva aerea che diciamo così invece è caratteristica di leonardo da vinci ecco quindi il classicismo e la prospettiva geometrica come punti fondamentali per raffaello e che vi ho già descritto a proposito di questa stupenda opera giovanile lo sposalizio della virgine che porta subito raffaella la ribalta tra i migliori artisti dell'epoca ecco la bellezza è sempre idealizzata da raffaello e grandissime sono le sue doti tecniche e qui analizziamo questi due dipinti molto interessanti a sinistra abbiamo la celeberrima fornarina fate attenzione al volto che poi lo stesso della velata e che è anche lo stesso della madonna sistina che abbiamo visto all'inizio del nostro viaggio nel mondo di raffaello chi era questa fornarina ecco questa fornarina come vi ho raccontato in classe era l'amante di raffaello la sua fidanzata e lui la ritrae come vedete nuda col busto diciamo non completamente nuda ma col busto scoperto mentre mostra il seno quindi un'immagine molto forte molto sensuale firma quest'opera sul corpo di lei anche questo è molto significativo anche un'allusione molto forte la firma di raffaello è su questa decorazione su questa bracciale che sta proprio sul 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 braccio della della fornarina e sullo sfondo c'è il mirto non lo vediamo perché l'immagine molto scura ma sullo sfondo c'è il mirto caro a venere quindi tutto un quadro questo qui a sinistra che allude all'amore e alla storia romantica ed ovviamente molto romantica se pensate che raffaello era corte quindi frequentava nobili uomini e nobili donne allora e gli ostacoli fra diciamo così i ricchi le classi diciamo così ricche nobili e le classi più povere erano ostacoli grandi indubbiamente raffaello innamorandosi di una donna del popolo fa compie un gesto importante che ci svela anche qualcosa del suo carattere che dubbiamente era portato a superare certe barriere utilizzerà poi il volto di questa donna che indubbiamente amava molto in molte sue opere molte sue opere e sfruttiamo la velata per evidenziare le capacità artistiche di raffaello che sono altissime e le vedete per esempio nei panneggi veramente con queste ombreggiature incredibili notevolissime nel vestito della velata c'è in raffaello indubbiamente una grandissima perfezione sia nel disegno che nella resa pittorica dell'opera lo vedete perché questa capacità di fare con lo sguardo sia l'erotismo come succede a sinistra per la fornarina qui a destra anche il mistero di questa donna nella velata è veramente sorprendente quindi raffaello idealizzava sempre le sue figure lo abbiamo visto anche nel quadro precedente idealizzava perché ecco torno indietro un attimo la madonna giuseppe non erano certo questi personaggi eleganti e vestiti e avvolti in vestiti esclusivi che vediamo qui nel quadro quindi idealizzare rendere diversamente dalla realtà mettendo in luce cercando di evidenziare una bellezza anche come dire che si va a sovrapporre al dato reale e qui vediamo la stessa bellezza rappresentata anche nel corpo di questa donna e nel suo sguardo misterioso sulle doti tecniche insomma ne abbiamo già viste e ve le ho mostrate anche per lo sposalizio della vergine qui non fuori naturalmente questo quadro di raffaello con la fornarina era un quadro privato che naturalmente raffaello teneva per sé e diciamo è un classico dipinto da tenersi in casa avanziamo nel nostro cammino e raggiungiamo forse quello che è il capolavoro dentro le stanze vaticane di raffaello qui parliamo di un ciclo di affreschi appunto nella stanze vaticane dove c'è la biblioteca del papa il papa decide di fare affrescare queste questi gli spazi sotto le volte questi archi sotto le volte che coprivano l'ambiente e raffaello dipinge dipinge quattro importanti affreschi di cui questo è sicuramente il culmine la scuola di atene ecco la scuola di atene contiene già tutti i discorsi che vi ho fatto in precedenza ed in particolare la prospettiva qui la vedete una prospettiva veramente perfetta fare la prospettiva di questa parte della volta botte vedete che dove ci sono questi esagoni ecco adesso vado col mouse così ve li evidenzia meglio ecco questi esagoni sulla volta sono veramente difficili da fare in prospettiva e ci mostrano diciamo così una una grande capacità tecnica del nostro artista come anche compaiono le figure di apollo e minerva cioè figure classiche figure classiche hai una riproduzione di statue classiche ai due lati della composizione che indubbiamente simmetrica la vedete simmetrica con questo passaggio al centro infatti qui si voleva celebrare diciamo così una una armonia tra cultura classica e cultura cattolica ecco qui raffaello si lancia veramente in un'opera titanica utilizzando anche gli aiuti utilizzando anche gli aiuti raffaello dipinge dipinge innanzitutto ecco con la freccia ve lo evidenzio dipinge platone e con a fianco aristotele platone che indica il mondo delle idee quindi vedete si vede in piccolissimo ma con il dito indica verso l'alto invece aristotele con la mano indica e cioè come se indicasse la terra cioè il mondo delle esperienze e poi ci sono tanti altri filosofi qui sulla scala vediamo di oggi ne che è interessante perché fate caso anche qui la naturalezza delle figure cioè stravaccato se mi passate il termine sulle scale e vedete come tutti i personaggi se poi fate viaggiare l'occhio sui diversi personaggi vedete come i diversi personaggi sono tutti in posizioni estremamente naturali e presi tra loro nel diciamo nella rappresentazione ecco si diverte raffaello a dare il volto di a dare a platone il volto di leonardo da vinci e qui davanti vedete un altro filosofo greco eraclito al volto questo signore appoggiato su un braccio è vedete che al volto di michelangelo al volto di michelangelo tutte le figli ci sono anche altri per esempio c'è c'è euclide che al volto di bramante ci sono tante figure rappresentate pitagora tutte le diciamo matematici e filosofi della tradizione greca compaiono qui quello che è interessante è che solo poche figure guardano nella direzione diciamo così degli spettatori che ammirano questa questo capolavoro tra gli altri qui nell'angolo destro anche qui lo vedete piccolissimo ma se guarderete il video sul sito tutti questi particolari sono evidenziati sul mio sito c'è un video che proprio parla della scuola di atene e li potete vedere i particolari ecco qui dove sto muovendo il mouse c'è il voto il volto di raffaello che si autoritrae mentre guarda verso chi sta guardando il suo il suo dipinto ecco questa è una cosa veramente molto molto bella qui ritroviamo appunto la naturalezza l'idealizzazione nel rappresentare i corpi la naturalezza anche sempre nel nella rappresentazione della figura umana e la prospettiva che sono i pezzi forti di raffaello la sua perfezione nel nel dipingere i corpi nel nel mostrare le situazioni e nel costruire proprio un dinamismo delle figure notevolissimo che indubbiamente era anche stato frutto dello studio di leonardo non so se ricordate l'ultima cena con queste figure di tre apostoli a gruppi di tre a parte giuda isolato che discutono tra loro ecco anche qua i filosofi matematici discutono tra loro andando a creare un grandissimo dinamismo dentro e che era sconosciuto all'arte precedente cioè diciamo per semplificare ragazzi il quadro non è noioso perché all'interno del quadro accadono tante cose persone che discutono matematici che discutono altri che pensano da soli figure che si chiamano figure che si indicano figure figure che dialogano figure che guardano lo spettatore che sta mirando l'opera insomma c'è un grande movimento l'opera è veramente ricca di situazioni sono un vero e proprio capolavoro noi andiamo avanti e vediamo qui appunto due delle madonne per concludere il nostro cammino due delle madonne che hanno diciamo caratterizzato la figura della vergine ha caratterizzato tutto il cammino del nostro artista che avevamo a destra la figura circolare la madonna della seggiola ancora una volta vedete un volto che allude alla fornarina che si chiamava margherita lutti cosa che non vi ho detto prima e vedete la perfezione sempre l'idealizzazione la tenerezza che viene fuori dal quadro dall'abbraccio c'è proprio questa capacità anche indubbiamente di raffaello di cercare di scoprire una figura materna che lui era mancata perché perso giù la bimbo la mamma ecco di riscoprirla attraverso dipingendo la figura della madonna che questo è molto bello e molto significativo a sinistra invece vediamo la madonna del cardellino con giovannino e naturalmente gesù tra appoggiato le gambe della 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 madonna ecco è interessante guardare la madonna e al suo sguardo verso il basso che replica con molta forza i modelli modello leonardesco quella della donna dallo sguardo gentile che guarda appunto verso il terreno e guarda verso il basso ecco mentre vedete che a destra la madonna della seggiola uno sguardo diretto che lancia verso di noi proprio con con decisione ecco questo la madonna del cardellino è sicuramente uno dei dipinti dove più emerge l'influenza di lardo da vinci sull'opera di raffaello quindi il nostro escursus finisce come al solito con un rapido ripasso oltre le madonna che vi ho mostrato naturalmente questo solo perché voglio sapere anche per le nostre verifiche la scuola di atene il fondamentale a fresco tra gli altri dentro le stanze vaticane c'è una biblioteca del papa questi bellissimi ritratti margherita lutti detta la fornarina a sinistra questa donna con la mano sul seno e a destra la velata e abbiamo detto di come il volto della fornarina ricompaia in tante opere la bellezza idealizzata le doti tecniche e naturalmente abbiamo parlato della prospettiva geometrica e del classicismo un grandissimo artista sicuramente da studiare bene perché sarà un artista studiato per secoli cioè l'influenza e la realità di raffaello arriva proprio fino alle porte del fino alle porte del novecento per esempio a renuare il pittore impressionista che studieremo quest'altro anno ecco renuare fa un viaggio in italia e in questo viaggio in italia rimane affascinato da raffaello lo stesso accadrà anche a pittori del neoclassicismo come engr insomma tutti affascinati da la perfezione con cui raffaello rappresentava le figure dava profondità le sue opere e alla perfezione che lo ha caratterizzato la vita breve di raffaello purtroppo non arriva a 40 anni il nostro grande artista e fra i tre è sicuramente quello che diciamo più amava la vita più la vissuta abbiamo visto con l'amore ma anche la vita di corte la vita sociale che sappiamo che amava quello che più amava la vita quello che ha avuto la vita più breve diversamente da da leonardo e soprattutto da michelangelo che ha una vita lunghissima muore molto vecchio e di cui parleremo in un altro video vi saluto e ci risentiamo presto